Per i PM della procura è da confermare la custodia cautelare in carcere imposta ad un 45enne. Lo scorso fine settimana, anche se i particolari non sono stati resi noti, è stato fermato. I poliziotti hanno trovato una pistola con matricola brasa, circa 1000 euro e almeno 43 proiettili. Pare che l'arma fosse pronta per fare fuoco con un colpo in canna. Tutti elementi che hanno portato la procura a richiedere la conferma della detenzione in carcere. Sembra che l'indagato assistito dall'avvocato Salvo Macri davanti al giudice si sia difeso. Ieri mattina avrebbe spiegato che l'arma e le munizioni erano in una zona rurale, lungo la Gela Mazzarino. Casualmente avrebbe trovato un sacchetto con all'interno proprio la pistola e le munizioni. Una versione che convince ben poco gli investigatori, certi invece che la pistola fosse destinata ad essere usata. Non si sa però a quale scopo. Tutto è stato sequestrato, il giudice si è riservato di decidere. L'indagato, subito dopo l'arresto, è stato trasferito a Balate. La procura ritiene che tutti gli elementi confermino la tesi d'accusa e quindi che anche la pistola potesse essere destinata all'uso. Anche per questa ragione è stata chiesta la conferma della custodia cautelare in carcere.